la mentalità la voglia di di aggredire la voglia di vincere hanno dimostrato di essere una grande squadra al di là delle assenze sicuramente pesanti cutruvi campanella paesani chi più ne ha più ne metta però siamo un gruppo molto ampio per cui abbiamo molti giocatori tutti di qualità rientrato mio ne faccio i complimenti è un bel tornato rientrato gian donato e soprattutto ho visto un grandissimo aurelio finalmente si è sbloccato qualche problemino c'è sta percorso che calciato gesta ottima prestazione pomella di tutta la squadra ad eugenio in porta squadra che che gioca ha giocato un bel calcio gioco di prima io cosa che chiedo tanto passaggi passaggi corti e e soprattutto di prima la squadra che ha fatto risultato meritatamente abbacci abbacci giustamente preso due gol ha reagito come fanno tutte le squadre avanti la qualità ce l'ha e in quel momento ho chiesto il time out anche per rompere il gioco perché comunque stavano in una fase positiva da qualche indicazione ai ragazzi ma soprattutto per per rompere quel momento perché comunque loro stavano stavano giocando bene sono venuti sotto porta hanno messo in difficoltà il centrale e gli esterni insomma hanno attaccato da tutti i lati allenatore in gamba comunque ha dato buone direttive e in quel momento la cosa migliore da fare secondo me era chiamare un time out in modo da fare un break un attimino e riorganizzarci il code mi aspetto una partita buona è una partita da due squadre due squadre che giocano un buon calcio non è non è una novità non stalla a caso una squadra squadra giocatori e alta qualità come del resto c'è la visana il testaccio e tutte quelle che stanno sopra come si ferma fagioli e copperelli grazie prego prego